Sindaco, fare un bilancio senza soldi forse è la cosa più difficile che un amministratore possa fare? È una situazione difficile, noi però stiamo prima pensando a tagliare. Abbiamo messo mano ai fitti passivi e cercheremo di accorpare entro dicembre tutti gli uffici, eliminando così gli affitti, toglieremo anche la sede dell'URP, la sposteremo in un locale di nostra proprietà. Insomma faremo tutta una serie di attività, rimetteremo mano all'autoparco, metteremo mano ai fitti attivi, andremo a fare tutta una serie di tagli e di attività entro dicembre che non hanno una ricaduta diretta sui cittadini. A proposito di fitti attivi c'è la questione dell'ex OVS, quello è un immobile che voi avete fermo in questo momento e che avrebbe potuto fruttarvi qualcosa in termini di affitti? Anche lì il bando partirà a breve entro dicembre, partirà un bando con un occhiolino aperto per quanto riguarda il teatro che oggettivamente adesso non è sicuramente il momento per la costruzione di un nuovo teatro, per il recupero di quello che c'è perché non ci sono le risorse, perché anche con la fondazione abbiamo dovuto spalmare un po' sul triennio il finanziamento, perché la valorizzazione dei terreni che servirebbero per portare avanti il progetto non cade in un momento opportuno, perché sicuramente la crisi non aiuta nemmeno questo tipo di attività. Taglierete anche al sociale, agli aiuti che date alle famiglie? Guardi, sociale e scuola restano i due obiettivi principali, quindi diciamo che come è stato anche dibattito ieri da tanti capigruppo...